bella ragazzi siamo ritornati in questo nuovo video oggi sono se non vedete a un paesino sono venuto qua in bici vedete e sono le aspetta guarda un attimo sono le 19 e 27 di sera e oggi sono ritornato perché in questi mesi anzi no credo in questi mesi non ho potuto fare video perché ero molto impegnato mi è morta una cugina e sono stato all'ospedale ho fatto un sacco di cose non ho dormito raga forse non si vedrà gli occhi non lo so se si vedrà gli occhi non lo so ma credetemi non ho dormito anche un secondo allora oggi sono ritornato per salutarvi perché c'è per rivedervi anche tutto perché credo che vedete tra voi e ma devo andare a fine leo perché non fa più video adesso vi ho avvisato comunque questo video finisce qua stasera faremo un altro video su youtube con i miei amici perché ormai devo andare a cena a questo punto non lo faccio più perché tutti se ne sono andati e oggi pomeriggio e sim stasera dopo cena credo che farò un video su di calcio o di arrampicate o di salti mortali poi vediamo o sennò dovremmo giocare a calcio qua a prendere le traversi vedete altalene senza senza piombini di sotto le useremo come traversa la panca di sopra e la traversa bella ragazzi questo vi è finito lasciate un bel like iscrivetevi al canale un iscritto si è allevato perché non ho fatto video per un po di tempo non fa niente comunque raga iscrivetevi al canale lasciate un bel like e ci vediamo al prossimo video ciao